I dipendenti della nuova Pansac si sono ritrovati in assemblea per parlare e discutere della situazione attuale dell'azienda che così come è stata rappresentata ieri al Ministero dello Sviluppo Economico dal Commissario Giudiziale Marco Cappelletto è ancora più drammatica di quanto si pensava e il rischio di fallimento è davvero alto. Il Commissario dovrà entro 30 giorni, prorogabili a 60, consegnare una relazione prognostica al Tribunale di Milano che basandosi su tale rapporto deciderà se concedere l'amministrazione straordinaria o decretare il fallimento. Abbiamo parlato dell'incontro che abbiamo ottenuto ieri presso il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma l'azienda sta attraversando un tentativo di andare in amministrazione controllata, straordinaria perché questo avvenga ci vogliono dei requisiti. Dopo che l'azienda ha portato i libri in tribunale è stato nominato un commissario che è un avvocato del Veneto che si chiama Cappelletto che dovrà curare tutti gli aspetti legali e praticamente deve verificare se c'è la possibilità di andare in amministrazione controllata o se no direttamente al fallimento. Lui ha aperto un conto corrente dove verranno versati tutti gli incassi o le fatture che verranno scontate in questo conto corrente e non deve generare assolutamente debito. Infatti un stabilimento di Zingogna è già ripreso a lavorare e fa solo del conto lavorazione. E invece adesso stanno guardando, noi abbiamo del materiale già trasformato lo stanno già consegnando ai clienti in modo da fare cassa una percentuale di questo materiale per il momento non verrà più consegnato perché il cliente non lo vuole e stanno vedendo se c'è anche l'interessamento di questo c'è un interessamento di qualche imprenditore a questi stabilimenti. Stando a quello che abbiamo in mano e a quello che ci ha detto il commissario se lui dovesse consegnare la sua relazione che la consegnerà entro il 12 di gennaio del 2012 il gruppo sarebbe fallito. Però adesso bisogna vedere perché ad esempio a Zingogna c'è un interessamento di un imprenditore un interessamento serio, come lui ha detto quindi lui nella sua relazione può mettersi questa cosa sul piatto e farla valere e di conseguenza non farla fallire. Adesso penso che le nostre forze politiche stiano muovendo un po' le acque se c'è qualche imprenditore o qualche cordata o qualche d'uno che sia interessato all'attività di Ravenna. E da lavoratore della Panza qual è l'augurio per questo Natale che vi fate? Speriamo di trovare almeno il compratore visto che non ci hanno pagato nello stipendio di dicembre la tredicesima è stata congelata la quattordicesima anche quella è da vedere la cassa integrazione è stata cambiata perché prima si era aperta una cassa integrazione per ristrutturazione e invece questa è una cassa integrazione per procedura di amministrazione controllata o straordinaria che quindi è diversa e quindi anche noi avevamo un accordo con le banche con la provincia questo accordo qui è saltato praticamente e quindi adesso ci sono dei tempi tecnici anche per ricevere la cassa integrazione Andrea e Gianni per Ravenna Web TV